Beh ragazzi, questo è il suo gameplay, come in descrizione oggi giochiamo a Slider.io Se non conoscete questo gioco significa che siete nati male Perché è un gioco che è uscito più o meno molto vecchio I primi sono usciti tipo del 1980-1970 C'erano nei primi Nokia con i tasti e robe varie E invece ora l'hanno anche messo, per chi non lo sapesse, l'hanno anche messo sul computer gratuitamente E oggi ci giochiamo Se volete che porto una serie di questi giochi così online, portatili O che anche vi faccio vedere i miei giochi che giocavo in precedenza tipo a 8-9 anni sul computer E invece, prima di avere la PlayStation 4 insomma E spero che vi piaccia Seguite su Instagram Luca Division, Facebook Luca Di tutto E ora vi faccio vedere un piccolo prodottino che ho comprato prima E' un pre-gameplay insomma E questo video qua è un mini unboxing con un gameplay insomma Quindi spero che vi piaccia Come vedete, questo è un mini pod Cioè un mini treppiedi L'ho preso dalla MediaWorld e questo viene intorno ai 25€ E' un treppiedi di marca italiana Manfrotto Manfrotto E di buon materiale Non si piega come certi Non si piega come GorillaPod Che io quelli lì che si piegano li odio Per il fatto che ne avevo avuti uno tipo due anni fa E mi si era spaccato tutto a metà dopo un po' piegandolo Questo è molto comodo E' abbastanza pesante e di una plastica di buona qualità Come vedete Qua se vi siete chiesti c'è un tastino Che serve per muovere la capsula qua Dove si mette la telecamera E invece se non si preme il tastino così Non si muove niente Ed è molto più figo Dopo questo mini unboxing Incominciamo con il vero e proprio video Ed eccoci qua Ora siamo sulla schermata del monitor Del computer E spero che si riesca a vedere qualcosa E che l'audio e il video siano messi bene insieme Perché io non riesco ancora a capire quella roba lì Comunque prima o poi riuscirò a fare bene E ora siamo su slider IO Andiamo E' praticamente un gioco dei sarpenti In cui chi mangia più sarpenti degli altri giocatori online Vince Mi chiamo Luca No Luca Trattino basso Trattino basso Trattino basso Trattino basso E ora sto registrando con il treppiedi Quello piccolo Come mi giro qua Perché Perché si muove solo Non capisco perché si muove solo Ah no Va un po' a scatti Spero Perché va a scatti Forse sarà il mio collezione No 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 Ti mangio io brutto Perché va lag Ricominciamo Ricominciamo Non capisco perché va lag Cioè Vedete Sto scatti Non so se sia la mia collezione Però Si è bloccato adesso Beh ma se vado così Mi blocco Non lo so Allora Oh no Oddio Cioè Ma proprio quando devo fare i video Mi arrivano Sì Delle poste Cioè Dei messaggi Insomma Capisco perché vado così a lag Adesso Oddio No Allora Questo gioco va troppo a lag Troppissimo Nel prossimo video Se Volete proprio Porto una serie Su questo Su questi vari giochi Per il computer Sto gioco Non credo proprio più Perché va troppo a lag Va troppo a scatti Non capisco il motivo Ma va troppo a scatti Ora sto 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 usando il tripod Quello che vi ho fatto Il mini unboxing Prima E così Lo testo Mentre gioco Dio santo Ma quanto lag va No I server di questo gioco Fanno un po' più schifo Lentissimo I server di questo gioco Fanno un po' più schifo Ma scatti in continuazione Cioè No Boh Almeno Non sto morendo Adesso Il lungo ha mangiato Figo Figo Bene 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 Sì mi raccomando Mi raccomando Perché la bandiera Della Cina Oddio Posso automangiarmi Non credo Proprio Non credo proprio Che posso automangiarmi Perché lì c'è un Oddio Ho avuto troppo Si blocca troppo Oh cazzo Ho visto mica un lag Come non so cosa Forse ora Si sta stabilizzando Stabilizzando Questo gioco Dico forse Però non voglio dire Grazie Grazie Mi raccomando Tutti Contro di me Più avanti Più avanti Se proprio Volete Porto Roblox Per chi non lo sa Ok Vengo mangiato E 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 A minecraft Però a mio parere Poi non so se A mio parere È il più figo di minecraft Ecco perché Praticamente È una cosa simile Solo che Per i bambini È un po' più piccoli Però è bello Fino allo scorso anno Ci Giocavo in piena Però poi ora No Perché è cos'è tutto il Google Quello lì Spero che questo video Vi sia Piaciuto Come sempre Seguitevi su Instagram Luca Divi Shop Facebook Luca 20 like per il prossimo video Arrivederci a tutti E al prossimo video